ciao ragazzi secondo giorno torniamo al nostro spot e vediamo se riusciamo a trovare ancora qualche perca o qualsiasi altra cosa basta che si piega la canna giusto giusto adesso andiamo e ci vediamo sul posto salvo nebbia che qua non si vede niente ciao ragazzi cucciolotti siamo arrivati magari uno troppo gigante come ieri 2 kg subito la friccione perché sennò quando ferro cazzo e lasciamo anche la canna fortunata c'è anche qua andare in giro così non trova uno che gli vuole dare una sgagnata si sta girando tutto il posto sul canale ecco 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 vedi che l'ha trovato quello che l'ha moccicato nooo sigara partito da dio guarda 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 e来了 ma l'amu funziona l'amu vai attorno a tutto ah è sotto tutto è si è possibile che tuo pece fasse una cosa vabbè farlo andare bene tanto se mangia lo butta giù vedi che qua la stava mangiando dai il colpo forte vai eh figa mi sembrava impossibile mi sembrava impossibile ah vabbè poi lo prendiamo in qualche modo lo recuperiamo oh perca eh si vede che girava più alto più a galla ecco qua eh neanche male eh neanche male ma è un bel pesce porca becchia ce l'aveva in bocca girava alto no? cosa c'è chi una pinza? no no ce l'ha portata in mano se vuoi ah no guarda due attaccate qua guarda qua guarda qua è anche il comodale da mare finalmente eh? si ci faccio anche una foto eh per te allora primo pesce che esce del giorno il primo pesce che esce del giorno si si la frizione è molle è un bel pesce che esce del giorno è un bel pesce che esce del giorno è un bel pesce che esce da vieni vieni buona mano appoggiare la canna lì eh come ho fatto io guarda che ti aspetto dai tanto in acqua piano piano con il tallone ecco bravo sempre fa canna fortunata canna fortunata una pinza qua no lo vedevo che si muoveva questa questa c'è foto? ah si una fotina la facciamo dai questa molto bella ecco qui questa vediamo se la tira sulla cresta vai lascia lascia la dietro con la cresta fatto? perfetto vai bello vai è è partito guarda guarda come va bene guarda la 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 ciao ragazzi anche questa avventura a manto è ormai finita è ora di salutare Andrea che ci ha ospitato e ci ha ospitato e ci ha portato in giro a pescare purtroppo peccato peccato per quel pesce penso un perca grosso che è stato perso ma ci siamo divertiti un sacco lo stesso quindi non mi resta nient'altro che dirvi di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima ciao belli